Sono sei anni che aspetto questo momento Non so, non so, non so, non so Accessibility settings, 1. Adjust for the seat, on, checkbox, on. È la prima volta che giochi... No, non è la mia prima volta, sarà la mia centesima volta di tutorial che lo devo fare. Io ho paura. Ho tanta paura. Cioè... Sono sei anni che aspetto. Sei fottuti anni. Battle giants in the frozen wastes near Midgard. And fight armies and animates in the ship and sails of Egypt. The gods, as a token of appreciation, may someday reward you with great earth champion talents in the golden champion culture. Sentite un attimo. Benchmark. Vediamo un attimo a mythical, altrimenti io smetto ad high e basta. Perché non è accettabile che non si carichino in tempo le grafiche. Non lo accetto su Berndus Gate 3, figuratevi se lo accetto o qua. Ma non è che sono queste proprie. Beh, è bene, ma qui è un accompagnamento. Donna che è un macello. Zomba tutto. Si capisce niente. La scelta è migliorare qualcosina, mi sa. Insomma, tutto arriva in grafico. No, invece è proprio... ...è proprio... ...Giorno. Che carica molto lentamente... ...la grafica. Quanta gente sta arrivando? Mi da fastidio questo fatto della grafica che non si carica, eh? Mi da molto fastidio. Giornate 1070 ti hai? Beh, insomma... Ok. Ho un ottimo benchmark, vi fa molto piacere. Però il setting ne è buono. Niente, vabbè. Mamma, l'ho cambiato. Start by moving our contest to the checkpoint. Protagma, malestà. Seleccionate qui. Questo. Oh mio Dio. Il mini-mappe show what you've explored and where your screen is. Eh... Ma... Ma... Cosa? Il Minotaur blocca il tuo cuore, infatti. Ma... che cazzo ha fatto? I fiori come Arcanthos possono facilmente decadere le uniti di Myth, come il Minotaur. Porca puttana! Ma il Minotaur è diventato forti... Gesune. Ed eccome. Gesune e Herakles hanno venuto a aiutare Arcanthos a rispettare gli uomini. Noi stai comp suburbs. Ma... che cazzo è stato fatto in questo modo! Ma... ha... ha... ha! Noi... non so hai llegato... Ma... ha... 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 Ora, rinca i nostri uniti... In il ero del checkpoint... Etoimo, ma... Ma... ha... 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 Vi per la parte dei Chiari. Ma... hai... ma... ha... 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 ha, ha... 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 ! attaccare quello che possono riuscire, ma Zeus ti ha benvenuto con la sua potenza di Dio, Bolt. Beh, hanno avuto... Nooo, hanno avuto pure questi... in quattro capi... Nooo... Siiii... Gli usabili ne... Qua ci si è? Ne... Uno... Ne... Ok... 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 E' un po' gli attacchi di Giasone Lercome... Ho cambiato anche le animazioni... Lercome è molto più forte di Giasone... Eh, Giasone c'ha 2.3, fa schifo! Well done! You have rescued your men! Vullome! Malista! Vullome! Esto! Ne... Malista! Ne... Si si, un attimo... Fatevi esporre un po' in pace... Vullome! Esto! Vullome! Ne... Malista! Etimus! No, sentite... Vuoi sentire la voce di Alcantos? Lei... Panni! Vullome! Malista! Etimus! Panni! Fear! Proseche! Ne... Toxod... Uuuh! Diamo un po'? Diamo un po'... Mamma mia che spettacolo! Non pensavo di poter... Panni! Lege... Vullome! Mamma mia che bene! Orthos! Mamma mia che bene! Vullome! Vullome! Cazzate! Ma quanto è bene! Madonna! Benissimo! Che succede? Indicatore! Manciri! Vullome! 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 Non si che hanno mai fatto! Mamma mia che è buono! Vullome! 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 Ah! He smacking us! Ah! F**k! Costans won't live! Excellent work! This base will trouble you no more. Did Varys manage to escape? To find out, continue Arkantos' journey in the fall of the Trident campaign. That looked like Varys. It has been a long time since you sent him to the Underworld, Arkantos. Fighting old battles again. Yes, old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted. Faced opponents no other man dared fight. That was long ago. Today Atlantis' enemies live only in my dreams. I face fear. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies. And you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my... These are enemies unlike the others, Arkantos. Do not let your guard down. Dark times are coming. And you are needed. Arkantos. Awaken. Admiral! Sir. Yes? We've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. You cannot ignore the omens, Arkantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis. Not the task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No. It must be you. He he. This is so good. time, so be careful. Madona. Buon calzato. Bellissimo. No, 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 no. No, no! Allora, per il meme, io lo devo farlo. Hehehehehehe No! Ma? È vivo? Sié. Ma come è vivo? Ok, quindi... Buongiorno! Lecce! Angor! Buongiorno! The Black Sails are going to regret this! Hoplites are infantry trained at the military academy. Use them to protect your vulnerable Toxotei. If you are running out of a particular resource, you should consider retasking them to gather it. Facciamo questi due qua. Portiamo avanti i 5 appunti. No, no, no! Ortho! Ismachin! Vulom! Calos! Leithos! Etimos! Legge! Ismachin! Isvoli! Calos! Nei navi sono fatte bellissime! Veramente, veramente bene! Bellissimo! Buon lavoro! Vulom! Orthos! Etimos! Atavol! Vulom! Prostagni! Esto! Prostagma! Orthos! Vulom! Arcanthos! Arcanthos! Do not forget to call upon your god powers! Spagliato o sbagliato? Vulom! Etimos! Legge! Ah! Sbagliato o sbagliato? Vulom! Vulom! Estu! Vulom! 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 Etimos! Vulom! Affango! Iniz! Ah! Cazzo! Posseghe! No! Vulom! 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 E la madonna Che cazzo ha mai fatto Mamma mia No 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 Quanti cazzo sono Rostacno Ma va smesso, gendarme Invoke the lightning storm god power Prostacno Rostacno Milone Rostacno Eccle Mamma mia Benissimo E' sempre un piacere Giocare questa missione Non ho cambiato delle cose Ci sta Questo fatto della grafica Mi gino veramente in culo Io ho capito che è una beta Però Mi dovete rompere i coglioni Poseidona è senza intendente C'è un errore nelle torre Un'altra errore qua Non c'è un signo più chiaro Arcanthus Stiamo perdendo la presenza di Poseidon Deve fare Non c'è un'altra C'è un errore sempre nei dialoghi. Facciamo queste due missioni e poi io mi fermo. È ovvio che mi sta piacendo, ma tantissimo. Cosa posso dire? Sono felicissimo. La mappa è sbagliata. È il nostro corso di Camos. Archeri, preparate i coi i boi, preparate le vado! Se sanno pagare per insultare a Poseidon e Atlantis. Ma, 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 ma... È il nostro corso di Camos, dovete rincare il nostro corso di Camos. È il nostro corso di Camos. È il nostro corso di Camos. Ma, guarda qui, iso il fumo. È il nostro corso di Camos. Cosa di Camos. Ci sono, c'è il nostro corso di Camos e il nostro corso di Camos. No! Hanno usato Tecton! Hanno aggiunto le tende che non c'erano nel precedente. Il Catascopos è sempre super importante. No, hanno cambiato gli shortcut. Sì, però... Che faccio a cambiare... ...untine delle cose? Non mi dite che avete veramente tolto la possibilità di poter girare negli edifici perché veramente mi incazzo come una bestia. Molto sincero. Allora, io vado di Ares. Puoi scoprire un preset nel menu di priorità di villager per distribuire automaticamente i villageri tra le risorse. No, ma io non ho dovuto fare forze. No, 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 io non ho dovuto fare forze. Poi, che? Il mercato? Ma il mercato non si fa ma? Il mercato non si fa ma? Il mercato non si fa ma? Ah ok gli eroi si rigenerano Molto interessante Oddio ma sono senza legno Gli edifici non vogliono farsi vedere Facciamo l'arcelia qui Veramente veramente bello il ciclope Mi piace molto come è fatto Molto particolare Veramente contento Mi piace veramente molto Tecton Mi sa che il problema è proprio una gara M'ha spiato Il bastardone Tecton Oh 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 Ah Hai capito Il mur È diventato Un magazzino Sta cosa è fiera Sta cosa è fiera Molto fiera Allora Miglioriamo i nostri uomini La buttonica Può anche essere Che sia Una registrazione Però Poi vedrò Poi vedrò Off camera E ve lo scriverò Nella descrizione Se è cambiato O no Upgrade Per i ciclope Non è più cibo Ma è oro Grande stranzata Siccome pago cibo Mi fa spista Ma c'è scritto IG3 Mi fa spista Ma c'è scritto IG3 All'epoca classica Va bene Direi che è il momento di attaccare Usiamo Che pestilenza usata Ma andiamo Ma forta qua Ma stabilità sul passivo Ho capito Mi pibe Tu Or Costa Mi pibe Mi pibe Mi pibe Mandare Mi pibe Cho Mi ponte Mi pibe A Fl awfully Mi pibe Meriz Add Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andammi giocare a cinematografico. La musica è la stessa del video originale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ne voglio un altro, devo spendere 200 di favore. Quindi io dovrei mettermi qua a pregare per avere un'altra porzione dell'abbondanza. Voglio riutilizzare la maledizione di Afrodite. Devo spendere 125. Quindi è tutto molto... Ci sta, secondo me. È un buon compromesso. Oh cazzo. Oh cazzo. Quindi io presumo che era una cosa di inizio gioco. Però comunque mi ha dato parecchio fastidio. Comunque abbiamo dovuto dire e quindi tanto vi è dovuto. Ah, in questa missione voi non avrete subito le nepolis e gli opriti. Avrete solo gli hippicon. Fatte determinate cose. Avrete... Come ho detto adesso. Le nepolis. Cicico, questa città, è forte. Distruggetela subito. Perché altrimenti arriveranno sempre queste ordini infinite di... Di cose, di... Di Toxotes e vi rompono i coglioni. Qua invece la situazione è quella che è. Il mio obiettivo adesso è quello di attaccare in viola. Comunque per tenersi appuniti così è il mio sogno da bambino. Adesso mi vedo così. Quindi c'è solo per questo io non posso che dire. Grazie. Continui aggiornamenti. Ho appena fatto il forsegno nell'abbondanza. E adesso per farlo devo spendere 400 di favore. Quindi vedete com'è. Va sempre aumentando il doppio. Se cliccate su delle unità vi diranno che potete mandare gli eroi. Oppure le unità militari o le navi. Questi sono grandissimi cambiamenti. Qua possiamo benissimo fare le fattorie. Direttamente da un centro città. Ragazzi sono tutte piccole cose che fanno benissimo. Poi c'è il village priority che in questo caso faccio a modo mio. Benno. Veramente benno. Il problema è quando registro. Perché quando registro evidentemente il gioco giustamente si appresentisce. e quindi non riesce a registrare bene 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 bene. E quindi non renderizza nemmeno tanto bene. Può essere anche un fattore di Nvidia. Shadowplay. Non ho provato con OBS. Non ho provato con Windows Bar. Amite Xbox. Che tu puoi registrare lo schermo. Non ho provato queste cose qua. E se durante la registrazione magari ho meno freeze, meno crani di frame. E ho queste grafiche con la texture bassa. In cambio off camera, togliendo l'energia di sezione, mi accadono i freeze e i crani di frame. Va bene ragazzi. Il video può finire qua. Sono felicissimo. Sono veramente contento. Sono veramente contento. La mappa qua è sbagliata completamente. Poi completamente. Perché qua Atlantide. Su un'altra mappa si vede in modo diverso. Il gioco è tutto da scoprire. Ragazzi il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto mettendo mi piace. Commentate. Noi ci vediamo su un prossimo video. Su. Anche. Molto probabilmente su Age of Mythology Returned. Ciao ragazzi.